Il sapore delle tradizioni in un'edizione tutta natalizia, oggi preparano insieme la corona dell'avvento. Per prima cosa bisogna lavorare la farina con il lievito ed il latte. Lavorate bene in una schianatoia e aggiungete un uovo e lo zucchero. Impastate per amalgamare bene tutti gli ingredienti. A questo punto potete aggiungere l'olio e continuare a lavorare per bene. Dovrete ottenere un composto liscio. Trascorso il tempo di lievitazione stendete con un battarello. Stendete per bene fino ad ottenere un rettangolo. Aggiungete della crema di nocciole e spalmatela in ogni angolo. Arrotolate sul lato lungo, tagliate al centro e formate un impreccio. Adagiate su una teglia e lasciate lievitare ancora, poi infornate in forno caldo a 180 gradi per 25 minuti. Trovate la ricetta completa su 980.com Aggiungete della crema di nocciole. Grazie a tutti. Grazie a tutti.